Allora, Antonio, che strumentazione ci vuole per filmare questi oggetti che tu quasi quotidianamente filmi? Cioè, che strumentazione ci vuole? Una semplice telecamera, obiettivi particolari? Illuminaci! Beh, oggi con l'ausilio della tecnologia da qualche anno, anzi, a partire dagli anni 90, con le vecchie telecamere, con le grandi, a cassettone, 8 mm, le manifestazioni sono aumentate a dismisura a livello mondiale e la gente ha sempre documentato con ogni tipo di mezzo queste manifestazioni. Tant'è vero che oggi, anche con l'ausilio di un buon telefonino, possiamo fare degli ottimi filmati. Proprio stamattina una responsabile di un nostro gruppo in Italia ha firmato una fantastica sfera a bassa quota con un telefonino, con un semplice smartphone. Quindi non è importante, ora come ora, avere il tipo di strumentazione. Ovvio, è importante perché poi, siccome va sotto l'occhio critico dello scettico, dell'analista, per dimostrare che si tratta di un vero, ovviamente più strumentazione sofisticata è meglio per tutti. Anche per la soddisfazione nostra poi di andare a rivedere di cosa abbiamo visto e documentato. Ma poi tu, Antonio, scusami, quando tu filmi un oggetto, poi ovviamente cosa fai? Lo dai all'aeronautica militare per metterlo sotto vaglio di occhi scientifici? Cioè, come si fa a dire che questa è una sfera particolare, quindi un oggetto non identificato, quindi un UFO, rispetto magari a una sonda atmosferica che magari possono aver messo gli scienziati della meteorologia, per esempio. Ecco, tu una volta che hai filmato, che cosa fai con questo materiale? Beh, posso dirti innanzitutto, partendo dall'ultima affermazione che hai fatto, io filmo di tutto, dalle sonde ai palloncini, all'aerei, proprio per far vedere in comparazione che si tratta di oggetti volanti non identificati per alcuni, quelli che per noi sono veri e propri astronavi o artefatti di origine extraterrestre. E poi, tanto materiale in tutti questi anni, al di là di dove va a finire il mio materiale, ora te lo dico, te lo confermo, ma c'è tanto di quel materiale in possesso delle reparti militari, documentati anche. Lo stesso Pier Giorgio Carie, è stato in Russia, e ha dimostrato che gli stessi militari di altissimo livello hanno della documentazione UFO, tant'è vero che è stato consegnato nelle sue mani. Però nel caso mio, ti posso dire che abbiamo provato e tentato tantissime volte di dare materiale a questi reparti militari, ma le porte sono state sempre chiuse, anche perché non potrebbero negare davanti all'evidenza, specialmente davanti a oggetti che avete visto fino a ora. Non si tratta di lucine di notte malinterpretabili, allora che vengono scambiati per UFO. UFO vuol dire oggetto volante non identificato, può essere tutto e niente. Anche qui bisogna cambiare un attimino la concezione, io non filmo UFO, io filmo astronavi, che è diverso. Quindi gli UFO le lasciamo all'appassionato della domenica, che invece ad andare a vedere lo stadio si mette a guardare le stelle. Astronomia, anche questo è un tutt'altro settore, perché tante volte uno scettico cosa fa? Ma andati dagli astronomi, è come uno se ha un'unghia incarnita va dal cardiologo o viceversa. Di cosa stiamo parlando? Il cosmo, questo è un fenomeno interattivo, intelligente, il cosmo è la casa di Dio, diciamo così. Però all'interno ci sono dei contenuti, come ci siamo noi ci sono altri. Quindi nel tempo tutto il mio materiale è stato consegnato nelle mani di quello che considero io i massimi esperti al mondo. Quindi in questo caso lo rappresenta Pier Giorgio Caria, grazie poi all'aiuto e alla collaborazione di tantissimi investigatori internazionali. Cito il noto giornalista Jaime Maussan, messicano, che anche lui si avvalla di collaborazioni e che attraverso lui il mio materiale è stato anche la NASA. Con dichiarazioni pubbliche, un componente esterno che collabora con la NASA, famoso Jim Dilettoso, che è un mostro sacro, nell'utilizzo di questi software per analizzare e smascherare i falsi. Lui ha dichiarato in un documentario registrato, girato appunto dallo stesso Pier Giorgio Caria, il suo staff dichiara pubblicamente che si tratta di un oggetto reale, concreto, di grande dimensione e le analisi ci sono. Poi in passato ancora, prima di collaborare con Pier, il mio materiale è stato proprio in Inghilterra, da Russell Callaghan, un altro che è tramidare dell'ufologia internazionale di quegli anni, c'era un altro, un altro ancora. Philip Menthol per caso, Antonio. Philip Menthol, Philip Menthol e Russell Callaghan, che tra l'altro è una dichiarazione che al tempo collaboravo con Maurizio Goiata, un grande ricercatore italiano, perché tutto il mio materiale è stato consegnato nelle sue mani e se la gente, nell'ombra del dubbio, non crede, può andare a cercare Maurizio Goiata e Antonio Urzi e lì viene fuori la sua dichiarazione, dove dimostra il fatto che fino a quegli anni là, nel 2004-2005, il nostro materiale era genuino.